Ciao belli, bentornati sul Punto di G. Io sono il vostro G e questo video sarà molto abbraccio, ci saranno pochissimi tagli. Vi volevo soltanto informare che oggi, 5 novembre 2020, finalmente escono i Ryzen serie 5000. AMD ci metterà sul mercato il Ryzen 5 5600X, il Ryzen 7 5800X, il Ryzen 9 5900X e il Ryzen 9 5950X, rispettivamente 6, 8, 12 e 16 core. Allora, come potete ben capire, io non ho avuto modo di mettere mano sui Ryzen, ovviamente il mio canale è ancora piccolo, ma ci stiamo lavorando tutti quanti assieme, per cui innanzitutto io vi devo ringraziare per il supporto che state dando ai miei contenuti e al canale. Se il canale sta crescendo così e sta avendo visibilità, è merito ovviamente mio, ma è soprattutto merito vostro, per cui grazie mille dal vostro G. Ad ogni modo, oggi su Twitch, sul mio canale Twitch, che vi lascio comunque in descrizione, andremo a cercare le recensioni dei Ryzen 5000 da parte dei recensori ufficiali a cui sono stati mandati i sample, andremo poi a cercare i prezzi ufficiali per l'Italia, perché sappiamo che AMD a questo giro ha aumentato i prezzi dei processori di 50 dollari, e sappiamo che in Italia tra tassazione e, casomai qualche negozio non troppo onesto, ecco, i prezzi sono schizzati alle stelle. Per cui vi faccio un invito, venite a vedere con me le recensioni ufficiali dei Ryzen 5000 sul mio canale Twitch oggi pomeriggio, io sarò in live oggi mezz'ora prima del normale, dalle 14.30, e ci sarà una maratona, una carrellata, un pane girico di numeri e prestazioni. Andremo a che, spero, voi vogliate vedere con me. Ricordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere aggiornati sul video del punto di G. E nulla, ci vediamo oggi pomeriggio se vorrete vedere questi dati con me. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!